Un adolescente toscano su quattro è coinvolto come vittimo, come responsabile in una forma di cyberbullismo. Ad affermarlo il quinto rapporto EDIT, lo studio multicentrico ideato e realizzato dall'Agenzia Regionale di Sanità, che a partire dal 2005 con cadenza triennale, indaga sui comportamenti alla guida e gli stili di vita a rischio. Lo studio ha coinvolto un campione di circa 6.800 studenti di oltre 80 istituti scolastici toscani. Secondo quanto emerge dal rapporto che verrà presentato giovedì 8 novembre a Firenze, inoltre un giovane su tre fra i 14 e 19 anni ha avuto un rapporto sessuale completo, ma poco più della metà usa il profilattico. Fumo, alcol e uso di sostanze stupefacenti sono stabili e sovrapponibili alla media nazionale. Aumentano invece gli adolescenti obesi, ma anche quelli che scelgono di seguire uno specifico regime alimentare. Lo studio ha focalizzato la sua attenzione su tematiche come rapporti con coetanei e la famiglia, l'andamento scolastico, l'uso del tempo libero, l'uso di sostanze stupefacenti e il gioco d'azzardo, ma anche su comportamenti sessuali, fenomeno del bullismo, sino ad arrivare ai comportamenti alla guida, attraverso i quali vengono così individuati i principali fattori di rischio associati agli incidenti stradali nei giovani. I risultati dello studio, ha affermato l'assessore regionale Stefania Saccardi, ci sono di grande aiuto per analizzare e conoscere meglio la realtà degli adolescenti toscani, quindi mettere a punto politiche e strategie sempre più mirate, rivolta alla loro salute fisica e psichica.